allora cosa c'è in questo pacco che hai trovato? copriselle copriselle? le tessere sono qua ci sono le tessere le abbiamo un pacco con questo coprisella vediamo... allora Franco Guarino esperto nell'aprile una sola e l'apriamo poi le operate semplici vabbè se ci vuole imparare allora, che staccare? vabbè copriselle copriselle? 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 stai film e allora ci andiamo sempre non scherzo quindi non si può aspettare io ma ci voglio andare a pegare così il cellulare voglio vedere i peggettini? qui tutto aspetta aspetta non c'è bisogno di corrumpire le tessere facciamo vedere anche qua che cosa ci sono ora lo vediamo ecco qui ci sono le tessere facciamo vedere la tessere facciamo vedere la tessere la tessere qua ci sono le tessere qua ci sono le tessere qua c'è la E allora facciamo una cosa, le destre ve le diamo con calma, le destre le facciamo e poi le diamo. Ora attiviamo i numeri e poi vediamo come si chiamano i numeri. Praticamente abbiamo voluto riprendere tutta la scena perché è la prima volta che arrivano a noi, magari la seconda volta, non avrà questo senso di novità. Sicuramente, è una vittoria per il club che ha voluto ed è riuscito, quando molti non ci vedavano. Ma in fine non guardavo tutti voi. No, solo voi ci sono. Te l'ho messo io. Ma che risultato?